ciao a tutti benvenuti su mezzo flotus prima iniziare a questa fantastica puntata di chi porselle vi ricordo che potete lasciare un like iscrivervi al canale commentare si va attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati a proposito di commentare il video per partecipare a questa rubrica dovete commentare il video con chi porselle è il nome della carta del prodotto di cui volete una valutazione siamo molto contenti perché ci chiedete tante tante valutazioni ad essenziali anche paolo ad aiutarmi in questa rubrica quindi chiedete pure senza problemi e cercheremo di evadere le risposte nel minore tempo possibile per chi volesse una risposta prioritaria quindi più veloce vi basterà abbonarvi su youtube potete abbonarvi anche su twitch utilizzando amazon pre video allora detto tutto questo partiamo con la prima carta di alberto che è un nostro abbonato quindi la risposta velocissima e ci chiede muxus goblin grandì allora carta che adoro veramente amo quasi follemente l'ho giocata in historic se non sbaglio su arena per diverso tempo dal punto di vista economico soffre un po del fatto che jumpstart che di jumpstart ci sia un una quantità di prodotto veramente grossa vi apro i box di jumpstart eccoli qua c'è un'offerta per esempio a 75 euro dall'italia se no il prezzo sui 90 euro comunque un prezzo devo dire molto basso però perché è basso perché la carta che valeva di più dell'espansione l'allosaurus shepherd è stata ristampata in double master 2 quindi questo ha portato un indebolimento del valore medio del del box di di jumpstart quindi torniamo al nostro muxus 415 copie disponibili quindi devo dire non tante sono poche però il problema che jumpstart adesso torniamo indietro che jumpstart è uscito nel 16 ottobre del 2020 quindi siamo già a due anni e rotti dall'uscita di jumpstart quindi si avvicinano le ristampe come è stato ristampato l'allosaurus shepard non mi stupirei di vedere muxus in un secret layer per dire quindi il rischio che questo accada c'è il prezzo abbastanza stabile perché è sulla decina da tanti tanti mesi se non un annetto quindi per me è un cell se non lo devi giocare io lo venderei seconda carta e memnito ce lo chiede alessio un grande affezionato del canale quindi ringraziamo tanto alle e allora ci chiede memnito 950 copie disponibili che ha ricevuto uno spike un annetto fa in concomitanza con con hammer time quindi è il motivo per cui è salito prima stava di solito sotto l'euro poi è schizzato a prezzi a 3 4 5 6 euro dipende dal periodo in questo momento storico a 350 allora per me questo tipo di carte sempre da vendere non ci vedo valore futuro incredibile e il rischio di ristampa così come per muxus è altissimo questa carta è stata ristampata solo in mystery e in the list quindi pochissime ristampe e quindi una ristampa vera prima o poi arriverà è la classica carta che possono mettere in double master 3 o in un qualche altro ripeto set di ristampa quindi per me è una carta che è a 350 ci sta a vendere l'ultima carta è diabolic intent carta dell'ultima espansione del predilise ce la chiede francesco alla carta che ha fatto proprio alto basso alto già quindi ha già avuto più vite nella nello stesso periodo adesso si si attesta sugli 11 12 devo dire che il prezzo mi sembra abbastanza congruo per il momento attuale per una rara però ci sono delle variabili impazzite questa è una carta che era legale in comandare legacy adesso invece legale anche in pioneer modern e standard quindi il fatto che entri legale in tre formati potrebbe cambiare nel prezzo perché da capire soprattutto in pioneer e modern se ci sarà un utilizzo intelligente per questa carta quindi c'è una variabile gigantesca io in questo momento francesco non la venderei sono sincero perché è vero che una rare può scendere ma è altrettanto vero che se si inizia a giocare 4 per in paio nero modern e anche forse standard e il prezzo sale quindi fai e fai attenzione io per adesso la terrei ripeto consapevole che può andare a 6 euro come consapevole che può andare a 20 22 quindi questo è il range allora siamo giunti alla conclusione in questa puntata spero vi sia piaciuta tantissimo se volete supportare canale iscrivetevi lasciate un like al video e commentate si va vi ricordiamo anche che abbiamo mille playlist in cui potete trovare per esempio chi porcel tutti nella stessa playlist potete andare a rivedere le e chi porcel appena passati quindi se volete ci fate un piacere niente alla prossima ciao ragazzi